Caro popolo d'Egitto, al salamu alaikum. La pace sia con voi. Con cuore gioioso e grato verrò tra pochi giorni a visitare la vostra cara patria, Culla di civiltà, dono del Nilo, terra del sole e dell'ospitalità, ove vissero patriarchi e profetti, ed ove Dio, clemente e misericordioso, l'Onnipotente e unico, ha fatto sentire la sua voce. Sono davvero felice di venire come amico, come messaggero di pace e come pellegrino nel paese che diede più di duemila anni fa rifugio, ospedalità e la Sacra Famiglia, fuggita dalle minacce del re Erode. Sono onorato di visitare la terra visitata dalla Sacra Famiglia. Vi saluto cordialmente e vi ringrazio per avermi invitato a visitare l'Egitto, che voi chiamate Umildumna, Madre dell'Universo. Ringrazio vivamente il Signor Presidente della Repubblica, Sua Santità, il Patriarca Tawadro II, il Grande Imam di Al-Azhar e il Patriarca Copto Cattolico, che mi hanno invitato. E ringrazio ciascuno di voi che mi fate spazio nei vostri cuori. Grazie anche a tutte le persone che hanno lavorato, stanno lavorando, per rendere possibile questo viaggio. Desidero che questa visita sia un abbraccio di consolazione e di incoraggiamento a tutti i cristiani del Medio Oriente. Un messaggio di amicizia e di stima a tutti gli abitanti dell'Egitto e della Regione. Un messaggio di fraternità e di riconciliazione a tutti i figli di Abramo. Particolarmente al mondo islamico, in cui l'Egitto occupa un posto di primo piano. Auspico che sia anche un valido contributo al dialogo interreligioso con il mondo islamico e al dialogo ecumenico con la venerata e amata Chiesa copto-ortodossa. Il nostro mondo, dilaniato dalla violenza cieca che ha colpito anche il cuore della vostra cara Terra, ha bisogno di pace, di amore e di misericordia. Ha bisogno di operatori di pace e di persone libere e liberatrici, di persone coraggiose che sanno imparare dal passato per costruire il futuro senza chiudersi nei pregiudizi. Ha bisogno di costruttori di ponti di pace, di dialogo, di fratellanza, di giustizia e di umanità. Cari fratelli egiziani, giovani e anziani, donne e uomini, musulmani e cristiani, ricchi e poveri, vi abbraccio cordialmente e chiedo a Dio Onnipotente di benedirvi e di proteggere il vostro Paese da ogni male. Per favore pregate per me, su Cranguata e Chahi Misr, grazie e viva l'Egitto. Ben trovati a tutti, abbiamo iniziato questa puntata con il videomessaggio di Papa Francesco. Una bella notizia, il suo viaggio in Egitto, un viaggio profetico, qualcuno dice rischioso, ma è importante in questo momento la sua presenza, lo accompagniamo proprio in queste ore dopo quello che è successo in Egitto recentemente, sappiamo, nella Chiesa Copta, ma anche per tutto quello che è successo da Giulio Regeni e a tanti altri detenuti, a tante violenze, un segno di pace e di dialogo in questo mondo. Non ci resta che accompagnarlo, almeno con il cuore e la preghiera. E insieme a questa bella notizia non possiamo tacere, registriamo proprio il giorno 27 di aprile, tacere invece una bruttissima notizia, lo vediamo sull'avvenire di oggi, l'export di armi italiane più 197%, dice nello scavo sull'avvenire di oggi 27 aprile, nell'Italia in crisi, con indici di crescita ai minimi, le esportazioni di armamenti non hanno rivali, 15,6 miliardi di euro, in proporzione più 196,9 rispetto al 2014 e 84,9 in confronto al 2015. La fa da padrone una fornitura da oltre 7 miliardi per 28 eri da difesa Eurofighter Typton per il Kuwait. E quindi in violazione alla legge italiana numero 185 del 90, ma anche agli accordi dei trattati ONU, l'Italia fa soldi sulla pelle della povera gente vendendo armi e siamo tra i primi, non i primissimi, ma i primi al mondo per questo triste, tragico primato. L'export di guerra più 197%. Vogliamo la pace o vogliamo la guerra, come dice la nostra Costituzione? I fatti sembrano dire di più che vogliamo la guerra, tanto più se pensiamo al Presidente Trump che ha chiesto al nostro Primo Ministro Presidente del Consiglio Gentiloni di pagare di più per la Nato e io pago e quindi non ci sono soldi per tante cose, ci sono però soldi per la guerra e se ne investiranno ancora di più. Noi non possiamo che dire no, questo non rappresenta il percorso della pace, questa non è la strada della pace, questa è la strada della guerra e noi siamo, lo pubblica anche a venire in questa foto, fornitori di armi all'Arabia Saudita che sta da un paio d'anni facendo la guerra allo Yemen. Nello Yemen i morti sono uccisi anche con le bombe made in Italy che partono da Cagliari con navi o con aerei. Tutto documentato, non c'è da essere orgogliosi, c'è solo da essere molto tristi, indignati, però anche impegnati a sovvertire questa follia. Ma torniamo ancora a Papa Francesco perché insieme al viaggio in Egitto in corso in queste ore ha annunciato anche un viaggio sulla tomba di Don Mazzolari a Bozzolo e di Don Milani a Barbiana il prossimo 20 giugno. Allora ascoltiamo un brano del videomessaggio in cui parla di Don Milani, in vista della pubblicazione dell'opera Omnia, Don Milani, muore il 26 giugno 1967, il priore di Barbiana, l'autore del libro Lettera a una professoressa, L'obbedienza non è più una virtù, prima ancora esperienze pastorali. Sentiamo il videomessaggio di Papa Francesco. «Non mi rivelerò mai alla Chiesa perché ho bisogno più volte alla settimana del perdono dei miei peccati e non saprei da chi altri andare a cercarlo quando avessi lasciato la Chiesa». Così scrisse Don Lorenzo Milani al priore di Barbiana il 10 ottobre del 58. Vorrei proporre questo atto di abbandono alla misericordia di Dio e alla maternità della Chiesa come prospettiva da cui guardare la vita, le opere e il sacerdozio di Don Lorenzo Milani. Tutti abbiamo letto le tante opere di questo sacerdote toscano, morto ad appena 44 anni, e ricordiamo con particolare affetto la sua lettera a una professoressa, scritto insieme con i suoi ragazzi della scuola di Barbiana, dove egli è stato parroco. Come educatore e insegnante, egli ha indubbiamente praticato percorsi originali, talvolta forse troppo avanzati e quindi difficili di comprendere e da accogliere nell'immediato. La sua educazione familiare proveniva da genitori non credenti e anticlericali. Lo aveva abituato a una dialettica intellettuale e a una schiettezza che talvolta potevano sembrare troppo ruvide quando non segnate dalla ribellione. Egli mantenne queste caratteristiche acquisite in famiglia anche dopo la conversione avvenuta nel 43 e nell'esercizio del suo ministero sacerdotale. Si capisce, questo ha creato qualche attrito e anche qualche scintilla, come pure qualche incomprensione, con le strutture ecclesiastiche e civili, a causa della sua proposta educativa, della sua predilezione per i poveri e della difesa dell'obiezione di coscienza. E con la bella notizia di Papa Francesco a Bozzolo e a Barbiana, due grandi profetti scomodi ed emarginati, che il Papa vuole rivalutare con la sua presenza fisica il prossimo 20 giugno, ci salutiamo anche ricordando due appuntamenti. Il primo è a Novara, con la Commissione Giustizia e Pace, i settimanali diocesani, la Siria è vicina, cronache di guerra e speranza da Aleppo, mercoledì 3 maggio 20.45, presso la parrocchia di San Rocco a Novara, ci sarà Fra Ibrahim, parroco di Aleppo. Una testimonianza diretta, il 3 maggio sera, San Rocco a Novara, con padre Ibrahim. E invece più vicino a noi, da Don Angelo, che non c'è, vi saluta, il giorno dopo, giovedì 4 maggio, ci sarà presso il circolino di San Maurizio a Ghiffa, l'incontro con Don Fabio Gammarota, parroco di Cittadella e Posta, nelle zone colpite dal terremoto vicino ad Amatrice, l'avevamo già intervistato, sarà qui da Don Angelo a Ghiffa il 4 giugno sera, 3, chiedo scusa, il 4 maggio, 3 maggio a Novara la Siria, 4 maggio a Ghiffa il terremoto, la tragedia che non vogliamo dimenticare. E con questo, anche a nome di Don Angelo, ci salutiamo e ci vediamo come sempre la settimana prossima. Inking, feeling